guarda come le informa la clara clara la moribonda vai in bagno c'è un sacco di artigiani o in cucina ce n'è poca no non è quello le cucchiai dove ho i giochi eh madonna però che paffine ora cosa mi combinano qui dietro? e te tu vorresti lasciarsi liberi? vieni dalla Cassia amore guarda senti solo la carta e ora vorrei mangiare la carta vieni amore vieni vai dalla Cassia vai è lei che rompe i coglioni quanto sarà? una settimana, 10 giorni ma sembrava mezza demente si è appunto ma lei si è risvegliata ma io la clara l'ho osservata perchè io ho fatto fare tutte le pupate levandogli fratelli perchè lei non pupava lei si addormentava poi quando si addormentava con la pupa in bocca la svegliavo e dipendeva a pupa questa te leva dalla grazia di Dio è una massa pazzesca ma tutti no? io non so dove riparare non so dove riparare e lo togliono capito? che tu fai? gli assalti alla carta? gli agguati? gli agguati? sì, quelli dietro le macchine come siamo? quando guardavo la televisione clara vieni qua ora cominciano a riconoscere i nomi piano piano vediamo che non li ricambino guarda qui qui l'ho rifiutato qua non è che si sia migliorato vai ma non cura un po'